Nell'oceano dell'Arcubaleno, in un castello di sabbia, abitava un cavalluccio marino di nome Truscello. Truscello, essendo un cavalluccio marino, si chiedeva perché non aveva il suo pantino. Fu così che un bel giorno si recise di allontanarsi dal suo castello per cercarlo. Nuotando, nuotando, si accorse di essersi allontanato un po' troppo dal suo mondo. All'improvviso, nuotò un variore verso l'orizzonte e viene così attirato da un'altra parte abbagliante. Ad un certo punto si accorse che era rimasto intrappolato a mano di un pescatore cattivo. muore da cazzarlo. Sentendo i suoi lamenti, si avvicinò ogni anno un bel papà. Che tentò di liberarlo e di portarlo in grado. Erick, a sì che faccio... Fa un po' troppo... Ma guarda, nonưỡile fare, nono lo soria... Non lo sforzano? No, non lo sforzano. La fare, non lo sforzano. Ma guarda, non lo sforzano. Perché ericko, non lo sforzano. Tutti i miei amici no? Ho una posizione di amici. Tutti i miei amici, non mi sono fai regolato..? dicono che cosa? Dicono, dico... E questa.. E qui va? E c'è che mangiano manca? E se mangiano manca Mangia geste Ma andiamo. Si è noggiano bambino, ma! Quindi non mi si vedi con i paventi! Ti ho detto io... Io c'ho un mio amico gilino Sono io Ciao girino Hai sempre fatto questo girino Che fa? Vuoi diventare un pantino? Quindi ora Questo girino Io Ti temo che arriverà Lo potrò trasformare In un pantino Sei pronto? Ecco Sì 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 Oh 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 E ancora non c'è l'uomo Come vuoi che mi fermo Potrebbe essere un tuo servizio Potremmo giocare e volare Potremo Potremmo satturare Si No No Non sono No Aspetta Aspetta Fai Posso andare Fai Potremmo Posso andare Ah Cosa Cosa Posso andare Fai il suo pantino e diranno così per sempre felice e contento.